L'Umisena, un cambio di passo nel controllo della peronospora. In prove sperimentali esterne con i principali esperti universitari, il girasole trattato con l'Umisena ha mostrato un'incidenza significativamente inferiore di peronospora rispetto alla semente trattata con fungicidi esistenti. In 29 prove di campo in tutta Europa, l'Umisena ha mostrato l'84% in meno di piante infettate da peronospora rispetto agli appezzamenti non trattati, senza manifestare resistenza incrociata ai fungicidi esistenti. Sono Petrellini Tommaso, opero nella provincia di Ancona, gestisco circa 1.000-1.200 ettari di terreno, di cui il 20-30% seminato a girasole. Nella mia azienda il girasole è una cultura molto importante, anche se negli ultimi anni per via della pronospora è stata calata un po' la superficie investita a girasole. Spero che risolva i problemi della pronospora perché in certe zone è quasi impossibile seminare girasole per gli attacchi alla pronospora. Anche le varietà, le ultime varietà tolleranti hanno avuto dei problemi con la pronospora e in qualche caso arriva anche al 40-50% dei danni. Spero che risolva questo problema. Come è stato visto qua dalle prove, sembra che il prodotto sia molto buono. Fungicida in concia lumisena. Per iniziare scelgo il meglio.